Se il popolo della libertà vincerà le elezioni, la Lega Nord avrà per la prima volta un ruolo di governo determinante e il mezzogiorno sarà governato da una forza politica straniera. Così il vicepresidente del Consiglio Massimo D'Alema, oggi in visita a Lecce, il ministro degli esteri uscente, ha espresso poi tutta la sua preoccupazione circa il fatto che i suoi conterranei meridionali non hanno nemmeno il potere democratico di non votare la Lega, ovvero il partito straniero, visto che la Lega al Sud non si presenta nemmeno. Immediata la replica del Carroccio, altro che innovazione nel PD. D'Alema parla al Sud con la vecchia logica dell'assistenzialismo, di un Sud insomma che deve sempre dipendere dal Nord. Ma forse ad Alema sfugge il fatto che la gente del Sud è stanca di questa mentalità, afferma il capogruppo della Lega in Senato, Roberto Castelli. Ma le affermazioni più aspre giungono dal coordinatore delle segreterie del Carroccio, Roberto Calderoli. Finalmente il PD è uscito allo scoperto dichiarando di considerare straniero il Nord e il partito che lo rappresenta. Siamo orgogliosi di venire considerati stranieri da D'Alema, che però non disprezza la moneta straniera che giunge dal Nord per garantire il suo assistenzialismo. Tanto ormai, chiosa l'ex ministro Calderoli, non solo la gente del Nord li prenderebbe volentieri a calci, ma pure la gente del Sud, visto che la sinistra non ha mai voluto risolvere né la questione settentrionale né tanto meno quella meridionale, alle quali invece porremo rimedio noi della Lega e l'MPA di Raffaele Lombardo, che ha saputo dar vita a una nuova classe dirigente meridionale. Gli strali del coordinatore del Carroccio oggi sono però rivolti anche al leader del PD, Walter Veltroni, che ieri in quel di Novara ha proposto la riduzione degli stipendi dei parlamentari. Il testo della riforma costituzionale realizzata dalla scorsa legislatura, chiarisce Calderoli, prevedeva proprio la riduzione del numero degli stipendi dei parlamentari, esattamente come il mio emendamento all'ultima finanziaria. Peccato però che lui e la sua maggioranza li abbiano bocciati entrambi.